Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart di studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dall'autostrada Inauno, 6 km di coda in diminuzione per traffico in congestione verso nord tra Firenze e Scandicci e Vio 1 variante. Inauno 11 in aumento a 9 km la coda per traffico anche in questo caso in congestione tra Vio 11 raccordo Lucca-Viareggio e Alto Pascio in direzione del capoluogo. I FIPD restano code per traffico tra Navacchio e Bibbia Dinamazione Pisa, SGC FIPD in direzione SGC Firenze-Rivorn. Code a tratti verso Firenze tra Bicarello e Montopoli-Valdarno e coda in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Ci vogliamo salutarci per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramviari per la tratta Fortezza San Marco. Da lunedì sera cambia il cantiere appunto in piazza San Marco. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Buon versi in Toscana Info in servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.